Nonostante la storica prima partecipazione ai play-off di Serie C, si interrompe il rapporto tra mister Leonardo Colucci e il Picerno, a darne notizie il club Lucano che ha comunicato che il contratto dell'allenatore, in scadenza il prossimo 30 giugno, non sarà rinnovato. La Z Picerno, si legge in una nota ufficiale, nelle persone del presidente Donato Curcio e del direttore generale Vincenzo Greco ringraziano mister Colucci e lo staff per il lavoro svolto e gli importanti risultati raggiunti, augurando fortune sportive e professionali. Sipario sull'esperienza Colucci, avviata a metà novembre, ereditando la squadra da Antonio Palo e passata per tanto lavoro, senza rivoluzioni tattiche ma con una crescita mentale e tecnica attestata dai numeri. Così sono maturati 20 risultati utili su 24 partite di campionato, con 11 vittorie e 9 pareggi e il decimo posto finale. Dalle parti del Curcio sono state fermate Palermo, Foggia, Monopoli, Manca, Avellino e Catanzaro nel girone di andata. Tappe di un campionato destinato a restare nella storia del club e vissuto dall'arrivo dell'ex calciatore di Bologna, Verone Cagliari in panchina, con entusiasmo e spensieratezza, con un picerno trascinato sul campo dall'esperienza di Federico Gerardi e Reginaldo, autori di 15 gol in due. Dopo l'epilogo al primo turno nella fase a gironi dei play-off con l'1-1 sul campo del Monopoli, giocando alla pari con i bianco-verdi di Colombo, termina allora l'era Colucci. Tra i nomi valutati per la guida tecnica del Picerno che verrà ci sono Mirko Cudini, ex campo basso, e Bruno Caneo nell'ultima stagione sulla panchina della Turris.